Finale regionale del concorso un volto per il cinema a Gela, a volere la manifestazione nella propria città, è uno degli organizzatori Giuseppe Termine. Per la categoria junior ad giocarsi la finalissima nazionale è stata Beatrice Arancio. La manifestazione, nata vent'anni fa da Maurizio Conigliaro e Giuseppe Iupa, ha portato alla luce diversi personaggi. I vincitori prenderanno parte a un film di Nico Zancle. Intanto 20 nuovi iscritti alle agenzie Elite Star sognano di vincere altri concorsi. In cantiere diversi progetti, tra cui una manifestazione di beneficenza con ospiti ragazzi che hanno partecipato alle scorse edizioni di Amici di Maria De Filippi. Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore. Mi piace, so fare tutto, so cantare, so ballare, so sfilare. Cosa vuoi fare da grande? Voglio fare l'attrice. Da grande voglio fare la modella. Come ti chiami? Chiara Tomaselli. Che fascia hai vinto? Un volto per il cinema baby, Miss Simbatia. Ti è piaciuto il concorso e cosa vuoi fare da grande? Voglio fare da grande una modella. Sono l'organizzatore della manifestazione Un volto per il cinema. La finale regionale si è svolta a Gela. Questi sono i ragazzi che hanno vinto e che prenderanno parte qualcuno a un film con Nico Zangla. Poi in cantiere ci sono altri programmi come la partita del cuore che si svolgerà a Vincenzo Presci di Gela con i ragazzi di Amici di Maria De Filippi. Il 25 e il 26 maggio saranno ospiti a Gela.